allora posso iniziare io posso iniziare io ok allora per wrestling italia abbiamo visto che stasera hai preso comunque delle piccole botte da huskins che ti aveva sfidato per il titolo diciamo dopo bambi killer se ovviamente riuscirai a batterlo affronterai huskins o avrai qualcun altro da affrontare secondo te anche se so che non sembrerà vero a voi idioti io francamente non ho paura di nessuno e che sono troppo in alto di livello per potermi misurare le mezze calzette tutti vogliono questo titolo e ti credo anche perché guarda chi lo porta guarda chi gli dà valore guarda chi è il vero campione di questa operazione ovvio che tutti vogliono questo titolo ma se non ho nella mia altezza io ho anche la responsabilità come campione non posso fare un match pessimo e battere nel 5 secondi solo perché voglio il titolo se non potrei sfidare qualcuno di voi idioti secondo te secondo te chi davvero merita di sfidarti per il titolo me stesso ma sono solo Karim no assoluto Karim ha una carriera splendorante mio allievo fa delle cose fantastiche su ing l'avete visto tutto giusto il suo momento verrà in questione quindi questa è una domanda perfetta grazie grazie